Grazie a voi per l'invito. Cateno De Luca ha dato alle stampe poco tempo fa questo libro, eccolo qua, Cateno De Luca, non tutto è successo. Cosa racconti in questo libro? Ma la necessità di andare oltre il personaggio che magari dai social può apparire come il super uomo, l'uomo invincibile. Racconto invece in questo libro che non è tutto ciò che appare ma dietro il personaggio c'è un uomo con le sue vicissitudini, le sue fragilità, la sua storia. E' un'autobiografia anomala perché a differenza delle classiche autobiografie che magari sono finalizzate a mettere in evidenza solo le cose belle, positive, io qua racconto tutto a cuore aperto. E quindi da dove sono partito anche quelle che sono state le trappole che la vita mi ha riservato, le cadute e come mi sono rialzato. Ma un messaggio anche per dire che il successo non si ottiene all'improvviso, magari non si ottiene al primo colpo, ci vuole la capacità di sapersi rialzare e ovviamente di perseverare nel raggiungimento dell'obiettivo. Altro significato di non tutto è successo e anche così una rappresentazione degli obiettivi che ancora ho nell'ultimo capitolo, vengono declinati quelli che sono ancora i sogni da realizzare, come abbiamo già descritto i sogni già realizzati. E quindi quella che è un po' la mia visione della politica è soprattutto la necessità di liberare la Sicilia da un comitato d'affari, come abbiamo sempre detto, e anche di dare rappresentanza al meridione con una strategia civica a trazione meridionalista. A proposito di successo, tu sei riuscito in un'impresa molto molto complicata, cioè con il tuo partito Sud Chiama Nord sei riuscito ad eleggere due parlamentari da solo, praticamente sfidando e vincendo in alcuni collegi le corazzate di centrodestra e centrosinistra. Come nasce questo successo, come nasce questa capacità di aggregare così tanta gente intorno a una proposta su una precisa parte dei territori? Io provengo da una storia di democristiano con la formazione sturziana che ho sempre messo in pratica, sono al quinto comune che amministro perché quella che è la mia sensibilità per le autonomie locali, ma anche per i corpi intermedi, mi ha portato a fare un percorso di statista di frontiera, come definisco anche gli amministratori locali, quelli che realmente sono il front office della democrazia, e mi hanno consentito di arrivare anche a fondare un movimento il 18 marzo 2007, il movimento regionalista che era Sicilia Vera e attraverso Sicilia Vera abbiamo creato in vari piccoli comuni della Riviera Ionica, io provengo da Fiume di Nisi, una metropoli di mille abitanti, un comune montano tra Messina e Taormina, lì ho iniziato a fare politica, continuo a vivere lì e da lì ho iniziato anche il mio percorso di sindaco. Nel frattempo ho fatto il sindaco in altri comuni e siamo arrivati alle elezioni del 25 settembre del 2022, ho deciso che io ho sempre fatto il sindaco vincendo sempre contro tutti, quindi la nostra è sempre stata nella storia una espressione squisitamente civica, e la gente ci ha apprezzato per questo e dove abbiamo amministrato abbiamo lasciato anche una squadra che ha continuato il lavoro che abbiamo iniziato, quindi questa è la dimostrazione ulteriore di quanto è stata apprezzata l'azione di governo che abbiamo portato avanti. Il 25 settembre del 2022, essendoci elezioni regionali e elezioni politiche, ci siamo presentati, nonostante non eravamo pronti, perché nessuno si aspettava le elezioni anticipate, con il progetto anche nazionale, l'evoluzione di Sicilia Vera in Sud Chiama Nord. Sud Chiama Nord è stato fondato il 25 giugno 2022, quindi siamo ancora ai primi passi, e nel collegio uninominale di Messina, sia Camera che Senato, è stato talmente apprezzato la nostra azione di governo che abbiamo ottenuto una percentuale di quasi il 40%, che per la prima volta nella storia riesce a consentire a una forza squisitamente civica di battere tutti i poli, quindi a conferma che quando c'è una perseveranza, e ovviamente anche quella che è una nostra metodologia, cioè che il consenso si conquista attraverso il buon governo, la gente ti segue. Ed ecco che siamo arrivati ad essere la prima forza politica in Sicilia, abbiamo anche eletto 8 parlamentari, io ho preso oltre 500 mila voti come candidato alla presidenza della regione siciliana contro tutti, mi sono qualificato secondo e al Parlamento nazionale abbiamo eletto due parlamentari. Preciso che non sono presidente della regione siciliana per mia scelta, perché ho rifiutato di fare il candidato del centrodestra e c'è stato Vicichè che voleva nel mese di luglio 2022 farmi fare un incontro con Silvio Berlusconi, perché avevano degli sondaggi che davano il centrodestra con Cateno De Luca candidato a presidente in una forbice che andava dal 65 al 70%. Effettivamente io ho preso il 25% e il centrodestra suo candidato ha preso quasi il 40%, quindi quella effettivamente previsione era corretta. Non ho accettato perché io sono cresciuto con una logica radicalmente alternativa a una visione politico-mafiosa dell'istituzione che ho sempre combattuto e voglio continuare a combattere. A proposito di questo, in Sicilia spesso le carriere politiche vengono decise per dinastie familiari, per baronati, per conventicole che tutto sommato si sostengono e si tengono insieme dentro un mondo molto paludato, impermeabile alle pressioni esterne. Tu invece ti sei fatto da solo, ti ha aiutato qualcuno a diventare Cateno De Luca? Mia madre mi dice che sono uscito fuori razza, perché mia madre è una contadina, mio padre è muratore, mio padre voleva che facessi il muratore, perché quando lavoravo con lui promettevo bene e mia madre voleva che facessi il contadino, perché già da ragazzino avevo iniziato ad allevare conigli e mi mantenevo anche andando a raccogliere origano, castagne, noci. Io ho cercato sempre di essere autonomo, provengo da una famiglia molto modesta e quindi ho cercato di pagarmi gli extra facendo tutti i lavori, dal barista al muratore all'inserviente e di questo ne sono orgoglioso. Provengo appunto dalla periferia, da un comune politicamente insignificante come peso, perché mille abitanti ovviamente per quelle che sono le dinamiche e le logiche politiche fanno sorridere, ma questo mi ha consentito di avere quella marcia in più che tutti mi riconoscono, perché la voglia di riscatto di un ragazzo di periferia è ovvio che poi è riuscita a caratterizzare non solo il mio percorso, ma anche le mie scelte che spesso possono sembrare radicali, ma che sono invece dettate da quella che è proprio una necessità di controbattere a potentati, anche dinastiche o baronali, per come è stato correttamente detto, ai quali non ho pregiudizi, ma ai quali non appartengo ovviamente. Sud Chiama Nord non è soltanto un esperimento locale, ma ambisce a diventare un fenomeno in grado di chiedere consenso in ogni angolo d'Italia. Tu ti sei candidato alle elezioni suppletive di Monza, non a caso ottenendo quasi il 2% dei consensi, in un territorio particolarmente complicato. C'erano delle voci, più che delle voci, delle notizie che ti davano molto vicino alle posizioni di Renzi e Calenda e qual è la verità sul rapporto di Sud Chiama Nord con questi due personaggi politici? Noi alle elezioni politiche del 25 settembre del 2022 con la sola lista in Sicilia abbiamo toccato quasi l'1% nazionale, quindi questo già è un elemento da tenere presente e con quella competizione abbiamo sdoganato il progetto che era autonomista e sicilianista in un progetto nazionale. Sul Chiama Nord significa anche un appello che noi lanciamo ai meridionali presenti al nord, sono oltre 10 milioni e quindi è quello di far scattare l'orgoglio e anche la reazione alle cause che hanno costretto i nostri conterranei ad andarsi nella nostra terra. La chiamata oggi è ben chiara, visione nazionale che deve avere la forza riscattare il nostro territorio. Sulla scorta di questo noi abbiamo sempre detto che siamo pronti, siamo stati pronti a fare anche il matrimonio di interessi pur di continuare a valorizzare il nostro brand e le interlocuzioni sono state a tutto campo, ma quello che alla fine ci ha frenato è che certi personaggi intendono la politica come occupazione militare del potere e quindi per loro la sommatoria è finalizzata a mantenere le posizioni senza alcuna progettualità. Quindi abbiamo avuto tante interlocuzioni e posso dire che di Renzi se lo conosci lo eviti, di Calenda ancora aspettiamo anche che ci chiarisca la sua posizione sull'autonomia differenziata che la sua stensione non ci è affatto piaciuta, nel frattempo abbiamo lanciato un appello definitivo a chi ci vuole stare su due principi, meno Europa e più equità, meno Europa perché abbiamo sempre sostenuto che un sistema di lobby non può imporsi su quelle che sono le tradizioni, l'identità degli stati, in particolare anche la nostra, lo vediamo in queste settimane cosa sta succedendo per quello che è comparto agricolo e zootecnico e di conseguenza per noi l'Europa deve esistere per occuparsi di alcune politiche ma non del resto, non può continuare a condizionare le nostre economie e soprattutto falcidiare anche quelle che sono il sistema di microimprese che caratterizza proprio il tessuto italiano sull'altare delle grandi lobby, non ci piace, non accettiamo che si possa anche prefigurare un avvelenamento alimentare dovuto a quelle che sono oggi la creazione di carne sintetiche, di farine di grilli che puntano a smantellare il nostro sistema economico e anche a minare alla nostra salute, quindi la difesa da questo punto di vista è chiara, quando diciamo meno Europa intendiamo questo e quando parliamo di più equità è ovvio che oltre all'equità territoriale e quindi a un meridione che continua ad essere mortificato non dal nord ma da una politica romano centrica che ci ritiene forse più nord dell'Africa che sud dell'Italia, perché poi ciascuno fa il proprio mestiere, io alla guerra tra nord e sud non ci ho mai creduto e anzi chi è che la alimenta la fa in modo strumentale, deve essere il meridione che oggi deve avere la possibilità e soprattutto la capacità e il coraggio di gettare il cuore oltre l'ostacolo e puntare definitivamente ad auto organizzarsi. Sulla scorta di questo noi siamo aperti a fare alleanze con chi ci sta, certamente non siamo alla ricerca di poltrone, per noi un seggio a Bruxelles non ci cambia la vita perché già noi esistiamo e abbiamo anche le rappresentanze al Parlamento nazionale siciliano e per noi quindi Bruxelles è un obiettivo che deve essere finalizzato a valorizzare ulteriormente il nostro brand e soprattutto a poter suggellare delle alleanze su dei valori che non sono valori che all'occasione per opportunismo vengono sbandierati, ma sono valori che devono trovare riscontro anche nella nostra storia perché non c'è dubbio che al di là di quelli che sono i buoni propositi, ciascuno di noi poi si presenta con un bigliettino e una visita che è la nostra storia e la nostra storia è anche da questo punto chiara e ovviamente non consentiamo che ci possano essere dei tentativi di approfittare di quelle che sono magari le nostre posizioni elettorali per lanciarci la cosiddetta mela del peccato. Noi ribadisco e chiudo su questo argomento non siamo interessati al seggio a Bruxelles ma a un percorso che valorizzi questi valori e la nostra identità. Cerchiamo di immaginare quale può essere il perimetro politico che tiene insieme delle forze che combattono questo establishment che tante reazioni provoca nelle fasce più colpite da alcune politiche care soltanto ai milionari globalisti. Tu prima parlavi degli agricoltori che sono in stato di agitazione oramai dappertutto, abbiamo visto che stai sostenendo in Sicilia con forza questa protesta, le rivendicazioni del piccolo agricoltore contro le grandi multinazionali possono essere un terreno comune di confronto con altri partiti, con altre forze che combattono nel nome delle stesse priorità? Assolutamente sì, infatti chi è che ha votato la PAC, i partiti che hanno votato le politiche agricole comunitarie a Bruxelles, è ovvio che oggi non possono fare un mea culpa semplicemente per aggraziarsi i voti degli agricoltori quando appunto hanno tradito in questi anni gli agricoltori. Mi fa ribrezzo sentire le dichiarazioni del Ministro Fermatreni, Lollobrigida, che oggi esulta come se fosse una sua vittoria il fatto che comunque ha portato oggi la Commissione europea a ritirare la proposta che stava andando avanti e che ha causato l'ultima reazione degli agricoltori per quanto riguarda le politiche ambientali restrittive, guarda caso, per il settore agricolo e quindi costringere anche ad abbassare la produzione, perché sull'altare dell'ambiente l'abbassamento della produzione è fatto per invece incentivare le lobby dell'industria della carne sintetica, tutto è collegato, quindi è ovvio che già qui c'è un perimetro molto chiaro che ci rende distinti e distanti rispetto a questi mondi, anche perché l'Europa non ha la necessità di occuparsi di queste cose, basterebbe già una difesa comune, basterebbe già una politica per i migranti comuni, cioè quegli elementi che effettivamente in una confederazione di Stati ha un senso fare come politiche comuni, ma tutte le altre politiche invasive che sono una nuova anche forma di neocolonizzazione, obiettivamente io non le comprendo e non li posso assolutamente sostenere. Ecco, tu sai Cateno che questo è un periodo di crisi violenta della politica e proprio dal concetto stesso di rappresentanza democratica, sono sempre di meno gli italiani che vanno al voto, tanti cittadini si sentono traditi da forze apparentemente rivoluzionari che poi però una volta arrivati al governo finiscono per ripetere gli stessi errori, per difendere le stesse politiche di quelli che c'erano in precedenza, forse proprio perché la sovranità nazionale è totalmente svenduta sull'altare di interessi non rappresentativi che si saldano a Bruxelles sul piano economico, a Francoforte e poi a Washington sul piano militare. Ecco, questi sono tutti strumenti di una globalizzazione oramai fallita? Secondo te ci sono strumenti per recuperare spazi di sovranità, per riportare spazi di democrazia reale che solo dentro uno Stato territorialmente definito possono essere esercitati? Assolutamente sì, io intanto ho seguito la linea di occuparmi dell'uscio di casa, come dico scherzando, quando ho incontrato anche tanti personaggi di statura nazionale, personaggi politici, ne abbiamo citati alcuni, ho sempre detto che io sono un uomo di periferia e quindi l'ho detto perché è la verità e ne sono orgoglioso, ma perché sono convinto che oggi si possa arrivare a vincere una sfida del genere partendo da quello che è l'uscio di casa nostra ed è l'esperienza che ho fatto e che continuo a fare da sindaco. Quando c'è fame, quando c'è disagio, quando c'è un gap infrastrutturale che ti porta anche ad avere una migrazione nel campo sanitario spaventosa dalla Sicilia, dalla Calabria, quando c'è uno spostamento di risorse che dal sud vanno al nord per quanto riguarda i grandi sistemi sanitari, io penso che purtroppo di fronte a tutte queste necessità, emergenze e spesso tragedie, certi argomenti alla gente interessano poco, ma è proprio partendo da lì, dalla sfida nel territorio che bisogna sapere fare una massa critica ed una rivolta, perché noi se andiamo ad analizzare alcuni dati, vediamo che durante anche le elezioni spesso amministrative, la percentuale di partecipazione al voto è molto più alta rispetto ad elezioni politiche e anche europee. C'è anche un motivo, l'esistenza di un mondo civico che si esprime a livello locale lasciando stare i finti civici, cioè quelle che sono le brutte fotocopie, le clonazioni delle partite esistenti che spesso strumentalizzano il civismo perché magari non hanno il pudore di presentarsi in certi contesti locali. Parliamo di quelle forze civiche come le nostre che hanno combattuto il sistema e lo hanno anche battuto in più circostanze. Ebbene, tutte queste forze civiche le troviamo presenti alle competizioni amministrative, alzano la percentuale di partecipazione al voto, ma quando poi si arriva ad altre tipologie di competizioni, vediamo che i loro elettori o non vanno a votare o paradossalmente quelli che vanno a votare, vanno a votare per quei partiti che a livello locale sono i nemici, gli avversari delle stesse liste civiche. Infatti nella nostra strategia, noi alla fine siamo una lista civica nazionale, oggi abbiamo tante interlocuzioni anche con questi mondi, per rappresentare oggi la possibilità di valorizzare anche il civismo locale, dare a loro la possibilità di avere le loro candidature, i loro rappresentanti ed evitare che i propri elettori in questo tipo di competizioni vadano a votare per gli avversari. Ecco, partendo dal basso, noi stiamo arrivando poi a quelli che sono i temi più alti. Un approccio diverso, ma che ci ha consolidato nel tempo, tant'è vero che le nostre posizioni sono forti, ben radicate, perché dove abbiamo iniziato il percorso abbiamo acquisito la credibilità per lanciare una sfida per progetti più ampi. Senti Cateno, prima parlavi dell'importanza di recuperare i corpi intermedi, l'importanza del rapporto tra istituzioni locali e cittadini, che è un po' il recupero dei principi di sussidiarietà cari a Don Luigi Sturzo, è stato un capo fondatore del Partito Popolare Italiano. Immagino che tu ti riferisca, prenda spunto anche dalla esperienza politica di un uomo come Don Luigi Sturzo. Però non è al passato che ti voglio portare, ma al futuro. Tu sai che negli ultimi anni è cresciuta nel Paese, ha acquisito consapevolezza, una parte di Italia che si è sentita messa ai margini, colpita, in un certo senso persino torturata da linee politiche molto autoritarie di governi che hanno sfruttato la paura, prima economica, poi pandemica, per imporre degli strumenti illiberali, vergognosi come il Green Pass. Io so che tu, per esempio, il Green Pass all'epoca ti sei schierato in maniera molto risoluta, però in un primo momento ti eri lasciato convincere della bontà del racconto parascientifico proposto da Speranza e i suoi. Hai col tempo sviluppato un'idea più precisa rispetto a quello che è accaduto? Guardate, con il senno di poi e con tutto quello che abbiamo visto dopo, è ovvio che le tue posizioni le devi rileggere. Noi partiamo da una fase che è molto suggestiva, molto critica, che ho vissuto da uomo delle istituzioni, ero sindaco di Messina in quel momento e per me l'unico obiettivo era proteggere la mia gente, questo lo voglio dire con chiarezza, proteggere il popolo siciliano, infatti il 23 marzo arrivai allo scontro, anche bloccando lo stretto di Messina perché quelle che erano azioni di governo erano finalizzate a uno spostamento di massa senza controlli. Io in quel momento avevo il dire comunque in quel contesto di assumere una posizione, è ovvio che oggi con tutto quello che è emerso da questo punto di vista, alcune posizioni le modificherei, ma siamo oggi nelle condizioni di poterlo dire e soprattutto di avere quegli elementi per un ragionamento. Io sono un uomo di cuore che quando ha un ruolo comunque punta intanto in modo primario a svolgere quella funzione, in quel momento io mi sentivo di fare quello, ovviamente nella massima mia buona fede da uomo delle istituzioni, però non ci sono dubbi che tutto quello che è emerso rende inquietante molti aspetti di quelle fasi che probabilmente sono state anche utilizzate, strumentalizzate per dare sfogo a certe lobby che noi poi purtroppo abbiamo visto, io ho denunciato più volte la falsità di sale che venivano approntate di pronto emergenza o di rianimazione che alla fine si erano verificate in modo farlocche. Certo ci vorrebbe qui un grande tribunale che verificasse tante storie, ma credo che purtroppo in questa fase i veri poteri forti erano trasversalmente coinvolti non si saprà mai realmente come stavano certe cose. Ecco ci sono dei limiti nel mondo antisistema che ogni tanto spogiano diciamo in una sorta di millenarismo nella speranza che arrivi una palingenesi, un grande vendicatore in grado di tagliare la testa a tutti i vecchi politici corrotti per imporre il regno della giustizia del bene. Un po' questa semplificazione un po' banale che hanno cavalcato i 5 stelle riuscendo infine a fregare tantissime persone però è una suggestione ancora presente per cui tante volte pezzi come dire avvertiti come dell'establishment fanno fatica a relazionarsi con un numero crescente di cittadini che chiedono un cambiamento reale, effettivo però spesso non hanno la consapevolezza e gli strumenti politici per raggiungere un cambiamento possibile. Ecco secondo te è difficile ma possibile lavorare per una ricucitura tra le parti migliori della politica che già rappresenta qualcosa nelle istituzioni e questo variegato mondo del dissenso che spesso incline al sospetto, all'autoflagellazione ma che è vitale, forte, vivo ed è presente in maniera sempre più costante dentro un paese che non regge più secondo le vecchie dinamiche. Ecco c'è bisogno di un incontro tra questi due mondi o perlomeno tra la parte migliore di una politica tra virgolette di lungo corso e pezzi di società emergente nel paese reale che chiedono un cambiamento effettivo? Io parto dal posto, la mia è una convinzione che esprimo anche in questo libro che ho scritto non tutto il successo, che non esistono i super uomini ma soprattutto non esiste il salvatore della patria. Esistono i salvatori della patria, uomini e donne che rispetto a noi hanno anche l'unità, la capacità, il coraggio e la determinazione di andare oltre. oltre cosa? Oltre steccati biologici, oltre anche convinzioni che rispetto a una bene superiore bisogna avere la capacità di limare. Questa è realmente la questione perché le istituzioni, piaccia o non piaccia, si cambiano dall'interno. Tutto ciò che può succedere dall'esterno può essere anche su uno strumento di persuasione, può portare anche a grandi sacrifici come è stato in queste settimane la protesta degli agricoltori a far cambiare idea su qualcosa di specifico, ma non cambia il sistema. Il sistema lo cambia dall'interno. Io ne sono una modesta testimonianza. Io ho preso i comuni dove ho fatto il sindaco che erano comuni decotti, comuni disastrati. Messina oggi è una delle città metropolitane che da un punto di vista gestionale ha delle performance migliori d'Italia. Io sono stato per tre anni la città come Messina, la prima in Italia in capacità di spesa, quindi in efficienza ed efficacia con dati ufficiali dell'Agenzia di coesione. Questo a dimostrazione che al di là di quelle che possono essere le azioni di protesta, se non hai la proposta per essere credibile, entrare nell'istituzione e dimostrare che le tue ricette sono giuste, non riuscirai mai ad avere realmente quella fiducia di massa che la gente alla fine dirà. Perché? Perché al di là dello sfogo e del grido di dolore, poi vuole che tu cambi le cose. E naturalmente per cambiare le cose lì deve emergere la statura, mi permetto di dire, da statista, scusate, o la ripetizione. Ecco, ti faccio le ultime due domande che poi ti lascio ringraziandoti per la tua disponibilità. Un altro tema decisivo, un dramma dei nostri tempi è quello della guerra. Noi abbiamo una classe politica anche qui trasversalmente pronta a mettersi nel metto, a fomentare un clima di muro contro muro, contro nazioni che vengono in maniera molto grossolana identificate come barbariche, guidate da dittatori da strapazzo. Ecco, secondo te anche considerata l'Italia può recuperare questa visione, questa capacità di porsi al centro le politiche del Mediterraneo e abbiamo noi il dovere di tentare di influire sulle scelte di un governo che invece ci trascina dentro scenari di guerra pericolosissimi. Qual è la tua posizione al riguardo? Guardate, purtroppo non è che nello scenario politico ci sono tanti Moro o De Mattei, diciamo che il nostro scenario politico pullola di nani della politica e obiettivamente oggi immaginare che l'Italia possa avere quella autorevolezza nel porsi al centro di una mediazione, beh è un po' difficile considerato che manca la materia prima. Ma questa è una mia modesta considerazione, ripeto, da politico di provincia, di periferia. Per convinzione parto dal presupposto che le guerre lasciano morti e feriti anche per chi alla fine la vince. Quindi da questo punto di vista diciamo che lo strumento non è quello idoneo. è ovvio che di fronte a queste situazioni alimentare le grandi lobby, quelle che comandano, perché le lobby delle armi naturalmente sono trasversali e soprattutto sono presenti ovunque, sono quelle che anche rispetto alle spese per interventi militari riescono ad ottenere grandi risorse. Allora tutto questo è ovvio che ti fa arrabbiare quando poi non trovi le risorse o ne vengono destinate neanche l'1% per quelle che sono politiche più urgenti e ovviamente più di interesse della gente. Ecco questo è il mio pensiero su un momento così delicato dove i fronti di guerra sono su più contesti e dove probabilmente mai come in questa fase le potenti lobby delle armi sta riuscendo ad alimentare e a condizionare tante scelte. Ti faccio un'ultima domanda, Cateno spogliandomi dal ruolo di giornalista ed entrando in quello di Presidente di Democrazia Sovrana e Popolare. Tu sai che noi abbiamo svolto il nostro congresso fondativo il 27 e il 28 di gennaio a Roma, la presenza di migliaia di delegati sono venuti a imprezzosire i nostri lavori, anche tantissimi rappresentanti delle principali ambasciate di molti paesi europei e non solo europei. Abbiamo messo in piedi una linea, una piattaforma politica dove si propone un cambiamento sostanziale, aprendoci però a possibili interlocuzioni con tutte quelle forze reali presenti nel Paese, non afflitte da mitomania cronica, che vogliono lavorare nell'interesse di un cambiamento possibile. Ecco tu conosci la nostra realtà, hai avuto mai un modo di approfondire, di cercare di capire quali sono, e se ci sono punti di eventuale contatto tra i diversi partiti che guidiamo? Io ho già osservato quelli che sono stati indirettamente i vostri lavori che avete fatto, ho anche visto che siete riusciti in una mobilitazione veramente importante. Ovvio che ci sono anticipi sui quali noi possiamo anche confrontarci, perché qualche giorno fa l'abbiamo lanciata nell'appello meno Europa e più Equità. Ecco questi sicuramente sono elementi su quali potersi confrontare e magari arrivare a una sintesi, al di là delle storie e dei percorsi di ciascuno di noi. Ognuno di noi ha una storia e meno male, dico sempre, ma questa storia deve essere padrimonio non per condizionare il presente e il futuro. Noi su quegli elementi siamo pronti a ragionare a 360 gradi, per noi l'equità territoriale che combatta questa autonomia differenziata e cioè la scissione dei ricchi che naturalmente è frutto qui di una forza politica di governo come la Lega che non avendo più nulla da dire ormai punta semplicemente a creare altre illusioni perché l'autonomia differenziata alla fine non servirà neanche alle regioni del Nord. Siamo pronti a un confronto e anche perché no, di fare una sintesi che abbia la sua credibilità anche per le prossime elezioni europee. Il comune denominatore ci deve essere. Io sono sempre dell'idea che bisogna fare tutto alla luce del sole ed evitare come già è stato per esempio con l'esperienza del terzo polo dove alla fine Renzi e Calenda purtroppo, mi dispiace dirlo, sono apparsi come i latri di Pisa che magari litigavano di giorno e andavano a rubare assieme la notte. Quindi è fondamentale che alla gente venga rappresentato in modo chiaro gli elementi di un accordo che può essere solo sui valori e su degli obiettivi. Non può essere ovviamente per unire piccole forze per cercare di superare gli sbarramenti perché in questo la gente poi non ti segue, non ti premia. La gente va coinvolta, per essere coinvolta bisogna proporre una strategia che ha un senso e che sia credibile e sicuramente valori come fermare l'invasione o la nuova colonizzazione europea rispetto ai nostri territori o rilanciare sul piano dell'equità territoriale e dell'equità sociale perché ci sono sempre più ricchi e sempre più poveri, sono questi elementi sui quali noi sicuramente possiamo ragionare e magari vedere e durare una simpatia. Allora io accolgo pubblicamente con grande favore le parole di Cateno De Luca, trovo molto interessanti i punti che ha posto sul piatto a partire dal recupero di una economia dove l'intervento dello Stato riesca a riequilibrare le strutture del mercato, ricostruire una rete di welfare in favore delle persone meno fortunate, cercare di combattere disuguaglianze crescenti, disarticolare questa Europa fallita come braccio economico di una globalizzazione decadente per tornare a un protagonismo della politica contro i poteri economici e finanziari e abbandonare per sempre e contestare con forza qualsiasi politica autoritaria dei governi giustificata da finte emergenze spesso costruite per l'occasione. Dopodiché sono d'accordo con te anche quando dici che bisogna parlarsi perché c'è il rischio ogni volta di chiudersi dentro dei cinti di autoreferenzialità che non servono a nessuno. La politica è consenso e sintesi e bisogna parlare e convincere quelli che non stavano prima con te altrimenti si rischia di rimanere sempre al gioco del logo e di ritornare per sempre al punto di partenza lamentandosi di non crescere mai. Ma diceva qualcuno che quando si fanno sempre le stesse cose e ci si attende risultati diversi quello è un principio di follia. Quindi se uno vuole ottenere grandi risultati si deve interrogare sugli errori fatti prima. Per cui ti saluto caramente, Cateno colgo con favore questa apertura politica che trovo molto interessante ci sarà spazio e modo per approfondire pubblicamente e limpidamente come piace a noi i temi oggetto di pubblica discussione. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a te. Bene cari amici di Visione TV si conclude qui questo importante approfondimento. Come sapete Visione TV vive solo grazie alle libere donazioni dei nostri affezionati utenti. Potete aiutarci con bonifico con PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it Non abbiamo finanziatori esterni e noi ne cerchiamo. I nostri unici editori siete voi. Continueremo a lavorare fino a quando il nostro pubblico continuerà a manifestare apprezzamento. Da oggi è possibile finalmente abbonarsi alla nostra rivista, al nostro mensile Visione. Un grande successo editoriale. In tanti ci avete chiesto la possibilità di abbonarsi per evitare ogni mese di dover ordinare singolarmente i volumi. Finalmente siamo riusciti a chiudere tutte le caselle. Da oggi è possibile abbonarsi a partire dal primo numero dedicato al fallimento del neoliberismo. Un numero eccezionale che contiene le firme di tanti ex ministri intellettuali di valore. Insomma di personaggi che stanno facendo sintesi sul piano culturale per cercare di cambiare la realtà. Grazie ancora a tutti voi. Vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.